La notizia aveva fatto il giro del web con la foto di uno scarafaggio ormai morto che spuntava tra le foglie degli spinaci bolliti serviti in un piatto ad una paziente ricoverata all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove aveva partorito da poche ore. La donna, che stava per mettere in bocca una forchettata di verdura, si è accorta in tempo della presenza del grosso insetto e inorridita ha smesso immediatamente di mangiare, scattato alcune foto con il cellulare inviate al marito e finite poi in rete. I vertici dell'ASREM sono stati informati immediatamente dell'increscioso episodio e a poche ore dall'incidente al Cardarelli sono arrivati in AS per effettuare i controlli del caso e accertare che non ci fossero altri insetti. Quasi contemporaneamente partiva anche l'ispezione promossa dall'ASREM in autocontrollo, in particolare sull'azienda che somministra i pasti ai pazienti dell'ospedale regionale, nei confronti della quale è partita la contestazione per quanto accaduto. Nel frattempo l'azienda sanitaria regionale ha fatto sapere di essersi scusata con la paziente. Un episodio che ha destato scalpore anche se le alte temperature di questi ultimi giorni hanno creato le condizioni ideali per la proliferazione di insetti. Tutto ciò tuttavia non giustifica la presenza della Blatt in un piatto servito di una paziente ricoverata in ospedale. I controlli sui pasti devono essere sempre e comunque rigorosi.